Danni notevoli all'interno della chiesa di Creola di Sacco Longo. La causa? L'intenso fumo nero ha sprigionatosi verso le 23 di giovedì da un principio di incendio. Un gruppo di volontari stava preparando il presepio in un locale attiguo al Tempio. Le fiamme si sono sviluppate durante i lavori di modellamento di un blocco di polistirolo con un fond. Il materiale ha preso fuoco, nessun ferito, ma i vigili del fuoco, intervenuti da Abano con due automezzi, hanno spento del tutto i focolai e messi in sicurezza il locale dopo due ore.